Bentornati su MyFootballJersey. Vi mostro questa bellissima maglia del Manchester City. L'avrete riconosciuta, questa è la quarta maglia speciale dedicata al nuovo anno cinese. In edizione player, l'edizione fan, l'avevamo già vista, trovate qui in alto la recensione. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info La maglia è molto bella e quindi ho deciso di riprenderla anche in versione player. Vi ricordo sempre, a parte dirvi che la quantità è veramente molto buona, i dettagli sono perfetti e il tessuto di Puma della versione player è veramente molto leggero e traspirante. Vi ricordo che della versione player di Puma ti prendere una se non due taglie più grandi. Questa ad esempio è un XL, io normalmente delle versioni player indosso una L. Vi lascio ora alla parte finale, prima però iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti quale altre maglie vorreste vedere. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!